La grande festa del Re Carnevale anima con la sua allegria, i suoi colori, la sua tradizione, le strade di San Demetrio, la piazza, i luoghi tipici, nell'ottica, assieme alla ricostruzione del Carnevale di una volta, di recuperare le radici e la cultura di un tempo. Una manifestazione questa, organizzata dalla Proloco di San Demetrio, presentata da Vanni Biordi. Riproposto dopo anni il funerale di Re Carnevale, una festa che è stata messa in campo per la prima volta dopo una preziosa opera di ricerca e dopo un accurato studio su fonti scritte, orali e materiali. A San Demetrio, nei primi anni del Novecento, c'era la tradizione di fare il funerale a Carnevale. Un fantoccio di abiti veniva portato in allegro corteo funebre, con festose maschere al seguito. Abbiamo fatto delle ricerche su fonti scritte di abruzzesistica, su fonti orali e su fonti materiali. In particolare i nostri ottantenni e novantenni ci hanno raccontato come loro festeggiavano il Carnevale e quindi la caratterizzazione delle allegre sequie di Re Carnevale che noi andremo a rievocare e che fanno rivivere riti arcaici della comunità vestina. L'aspetto particolarmente caratterizzante del nostro Carnevale è il profilo etnografico, perché appunto abbiamo ricostruito sia nei ruoli dell'allegro corteo ciò che più era fedele ai primi anni del 1900. Inoltre abbiamo anche alcuni elementi del corteo, ad esempio il fantoccio che è stato ricostruito proprio da nonna Agnesina e da nonno Mimino, classe 27 e classe 30, che si sono rimessi in gioco e quindi hanno ricostruito proprio il fantoccio che noi andremo a portare nell'allegro corteo funebre. Negli anni 40 sulla Civera il morto Carnevale era una persona che durante il tragitto mangiava tagliatelle a sugo in un vaso da notte. Nella ricerca storica, per riproporre il Carnevale più fedele possibile a quello dell'epoca, fondamentale è la collaborazione degli anziani del popoloso comune. Magari si metteva un pupazzo sopra la Civera, si chiamava una portantina che si usava per la campagna, mettevano Carnevale e poi giravano anche le persone adulte, non solo i bambini, e si faceva la spaghettata perché allora la spaghettata era un po' rara e addirittura i partecipanti mettevano la pasta asciutta nei vasi da notte e mangiavano la pasta asciutta nei vasi da notte. Figura importante del corteo è il sindaco del partito Unisipo, con un programma irrealizzabile, un partito realmente esistito, il sindaco del Carnevale e il sindaco vero di San Demeggio nel corteo funebre di Re Carnevale. Allora io mi chiamo Pasquale, senza testa, chiaramente per essere sindaco di un giorno bisogna non avere la testa. Lei sarebbe? Il figlio di Re Carnevale. Quando è serio fa anche il sindaco? Sì, ma in questo momento mi hanno coinvolto, perché non dare la disponibilità anche per fare queste cose. Dopo il corteo, spazio al concorso, con tutte le mascherine più belle e anche a scene rappresentate dai bambini, un'esperienza bellissima per la comunità di San Demetrio e per tutti quei turisti accorsi in questa festa tipica e originale, terminata con la lettura del testamento di Re Carnevale e con il falò. Una figura che deve portare il testamento di Carnevale è stato convocato al momento in cui Carnevale era in fin di vita e con un fil di fiato ha dettato questo testamento al notaio che poi con la raccomandazione di leggerlo a tutti i cittadini presenti.